ciao e bentornato proseguiamo il nostro viaggio attraverso i time lapse con un'altra post produzione intanto prima vediamo nel time 1 vedi che nel programma adesso che è quello che abbiamo elaborato precedentemente vedi che nel programma sono comparsi diversi simboli che sono quindi le varie operazioni di post produzione che abbiamo fatto precedentemente e che faremo adesso sul time 2 in questo caso non è un time lapse di urno quindi non c'è una luminosità costante ma c'è una grande differenza tra l'inizio dei time lapse alla fine perché siamo in un time lapse fatto al tramonto e quindi in questo caso ho impostato la macchina per i 3 di diaframmi in modo tale che la fotocamera regolasse da sola il tempo di esposizione infatti vedi che se scordiamo le fotografie abbiamo dei piccoli salti di tempo quindi un sessantesimo cinquantesimo un quarantesimo e via dicendo fino arrivare ovviamente alla fine quindi abbiamo un tempo sempre più lento visto che la luminosità della scena è sempre minore ma per quanto riguarda diciamo l'aspetto della post produzione non cambia assolutamente niente cambia solo in fase di scatto come abbiamo visto anche nel video teorico quindi andiamo su wizard keyframe e selezioniamo 4 5 6 keyframe in modo tale ad avere un keyframe quindi questa foto di riferimento in ogni cambio di luminosità all'interno della scena poi una volta che abbiamo scelto il nostro numero di keyframe in questo caso direi che così può andare bene salviamo e trasciniamo come abbiamo visto nella lezione precedente l'intera sequenza all'interno di Lightroom ricordati che Lightroom deve essere ovviamente aperto puoi andare tranquillamente trascinando sull'icona che appare nel doc e deve essere già nella modalità libreria aspetta sempre che appaia Lightroom una volta che sei nella schermata di importa ricordati di spuntare la selezione aggiungi in modo tale che Lightroom non crei la coppia di queste fotografie e quindi aumenti diciamo lo spazio occupato all'interno del tuo harddisk una volta che il programma importate queste fotografie andiamo nella parte destra in basso e selezioniamo questa volta invece che full sequence LRT5 keyframes e in questo caso come nella lezione precedente appaiono i nostri keyframe che sono queste sei fotografie e vedi che abbiamo un scatto praticamente per ogni condizione luminosa all'interno del timelapse quindi proseguiamo nella post produzione andiamo nell'ambiente di sviluppo di Lightroom e facciamo le nostre modifiche alla prima fotografia quindi andiamo ad agire sempre sul sottomenu base in questo caso possiamo aprire un pochettino le ombre e i bianchi agire un pochettino sulla temperatura la vividezza comunque è un po di dettaglio texture chiarezza ma ti dicevo comunque veramente poco generalmente io tendo a produrre veramente poco il timelapse se ovviamente è fatto bene in fase di scatto dopo aver fatto la nostra elaborazione questa volta andiamo a selezionare le due fotografie iniziali quindi la prima su cui abbiamo fatto le nostre regolazioni e la seconda poi andiamo in alto nel menu principale all'estrema destra abbiamo questa icona pergamena che può essere diversa anche dal sistema operativo ma le funzioni interne sono sempre le stesse e vai a selezionare l'opzione 01 quindi lrt timelapse sync keyframe quindi andrai sincronizzare questi due keyframe una volta spuntata questa opzione il programma coppia le impostazioni sulla seconda fotografia successivamente dovrai cercare di applicare altre modifiche alla seconda immagine in modo tale che il cambio di luminosità tra la prima e la seconda sia il più graduale possibile quindi questi cambiamenti poi tra le successive immagini cambiano ovviamente al secondo della scena ma il succo del discorso è sempre lo stesso deve essere il più graduale possibile ovviamente per avere un buon timelapse quindi in questo caso possiamo fare giusto aprire un pochettino di più le luci ma direi che sono abbastanza omogenee poi successivamente selezioniamo la seconda e la terza e facciamo esattamente uguale quindi andiamo nel menu in alto nella parte destra sincronizziamo i keyframe verranno copiate le modifiche anche nella terza e dobbiamo fare di nuovo delle modifiche a questa terza in modo tale che il cambiamento sia il più graduale possibile quindi in questo caso possiamo cambiare un pochettino la temperatura visto che la troppo tendente a blu ricordi sempre ovviamente di guardare le immagini precedenti perché ti ripeto il cambiamento deve essere il più lineare possibile quindi perdi un po di più di tempo in questa fase ricontrolli le fotografie anche un po più volte in modo tale che veramente questo cambiamento sia graduale se non il timelapse viene completamente rovinato dove vai a ricominciare da capo una volta che sei soddisfatto del cambiamento in questo caso cambiato veramente poco giusto temperatura e un pochettino di esposizione ripeti le operazioni che abbiamo visto prima quindi selezioni la terza e la quarta in questo caso sincronizzi keyframe e vai avanti riguardi tutte le fotografie nel quarto keyframe vai a fare altri cambiamenti per avere un cambio graduale interno della scena sono veramente sempre piccoli cambiamenti in questo caso quindi andiamo a selezionare la quarta e la quinta e applichiamo di nuovo sincronizzazione e i cambiamenti che dobbiamo fare sulla quinta adesso la scena cambia abbastanza quindi possiamo sempre agire sulla temperatura sulle luci sulle ombre sui bianchi comunque bene o male sono sempre questi tre valori ti consiglio di non cambiare text o chiarezza e altri parametri perché sennò siano dei cambi anche di dettaglio abbastanza evidenti nelle varie fotografie quindi vai agire su temperatura esposizione luci ombre bianchi e ovviamente ogni tanto anche i neri per avere un cambio graduale il momento proprio critico è questo dove si ha il cambio tra giorno e notte ma direi che stiamo facendo comunque un buon lavoro una volta che anche la quinta ti sembra elaborata in maniera giusta e graduale rispetto ai precedenti selezioniamo la quinta e la sesta sincronizziamo e ricominciamo rifacciamo anche i cambiamenti sulla sesta che in questo caso è un po più da correggere rispetto alle precedenti sia in esposizione in temperatura e anche in bianchi luci provvedi come facile al fine dare un aspetto abbastanza graduale a questi keyframe ti consiglio sempre di avere un numero di keyframe adatto quindi un 5 o 6 in un tramonto è un buon numero di keyframe ovviamente per tutte le fasi di luminosità presenti in scena in quel momento una volta che abbiamo fatto i nostri cambiamenti e siamo soddisfatti di questa graduale transizione di luminosità andiamo di nuovo su libreria nella vista griglia mi raccomando se no alcuni metadati non vengono salvati selezioniamo tutte le fotografie andiamo nel menu in alto metadati salva metadati nei file le prime volte di da questa opzione qua non mostrare più va bene continua e vengono salvati metadati all'interno dei nostri file in modo tale poi da essere trasportati nell'altro programma quindi ripassiamo su lrt timelapse e come abbiamo fatto esattamente nella lezione precedente ricarica in questo caso ricaricherà a vedere le varie modifiche che abbiamo fatto ai nostri timelapse poi schiacciamo transizione automatica e poi successivamente anteprime visive il software elaborerà la scena quindi farà i vari cambiamenti a tutte le fotografie sulla base dei keyframe che abbiamo analizzato in questo caso sono 200 passa scatti quindi ci metterà un pochettino quindi 200 passa scatti e saranno un timelapse di circa 8 secondi ricordi sempre 25 fps per secondo per avere un timelapse abbastanza fluido vedi che intanto appaiono i vari valori di luminosità visiva si riempiono le varie colonne e la nostra curva rosa che poi è la nostra curva diciamo del timelapse effettivo è abbastanza buona ci sono un po di sbalzetti quindi non è perfettamente lineare ma la risolveremo successivamente con il defleaker e vedi sti che anche facendo andare il filmato abbiamo comunque un turnlapse abbastanza fluido non direi che non è niente male quindi applichiamo poi un defleaker visivo direi non esagerato guarda sempre come cambia la curva verde in base alla rosa che abbiamo qua sulla sinistra sull'anteprima direi che più o meno ci siamo su tra i 10 e 20 e applichiamo il nostro defleaker in modo tale che ricalcoli la curva e una volta scelto il nostro defleaker applicato vedi come pian piano in base ovviamente alla potenza del tuo computer si forma di nuovo la nostra linea rosa senza quei brutti sbalzi di luminosità che c'erano precedentemente facciamo scorrere l'anteprima per vedere un po' defleaker potremmo applicarlo per migliorarlo ulteriormente ma sono contento così non abbiamo sbalzi di luminosità quindi defleaker è perfetto il turnlapse è perfettamente stabile perché ho usato un cavalletto e sono stato ben attento a non toccarlo mi raccomando questa operazione è veramente fondamentale perché per stabilizzare un turnlapse bisogna usare poi altri strumenti come per esempio adobe after effect o altri programmi che sono a pagamento e quindi è sempre meglio lavorare al meglio nella fase di scatto e minimizzare la post produzione e le nostre risorse anche quelle economiche ovviamente quindi abbiamo fatto un buon lavoro e ripassiamo ovviamente a lightroom andiamo nella parte destra inferiore rimettiamo tutta la sequenza e poi selezionando tutte le immagini nella libreria nella funzione griglia col command a o control a andiamo sul menu metadati quindi sul menu superiore di lightroom leggi metadati dai file e il programma leggerà tutte le modifiche che sono state fatte su LRT timelapse una volta fatto questo possiamo andare su export e esportare le nostre fotografie esattamente come abbiamo visto nella lezione precedente quindi scegliere la destinazione l'output il nome della sequenza ovviamente in questo caso l'esporto in time 2 che è esattamente la cartella che contiene gli originali in F una volta dato il nome della sequenza che preferisci esporta anche qui ci vorrà un po di tempo in base ovviamente al software ma una volta finita l'esportazione sei catapultato all'interno di RT timelapse dove potrai scegliere le impostazioni dei tuoi video e ricordati che con la versione free ha delle limitazioni per quanto riguarda il codec la dimensione di output che può essere al massimo 1920x1080 anche se questo timelapse comunque potrebbe essere un 4k tranquillamente puoi scegliere il frame rate che ti consiglio sempre 25 la velocità 1 a 1 è l'ideale quindi la lunghezza di video è 9 secondi per quanto riguarda la qualità alto va più che bene le altre funzioni maggiori sono comunque a pagamento e poi ricordati che puoi scegliere anche il ritaglio se forzare l'output in serie 19 o no poi una volta che sei soddisfatto clicchi su rendering video e il programma elaborerà il tuo timelapse che è questo qui che stai vedendo adesso e direi che mi ha fatto un buonissimo lavoro non ci sono sbalzi di luminosità guarda di ombre come sono abbastanza graduali anche il cambio di luminosità al calare della notte quindi quando si accendono le luci è perfetto quindi abbiamo fatto un buon lavoro l'unica cosa che mi rimane un po' da mare in bocca guardando questo video è il fatto che non sia un po' prolungato quando cala le tenebre perché comunque visto che quando si accendono le luci della città che è un bel vedere il timelapse praticamente finisce quindi ti consiglio di continuare un pochettino io qua ero con mio figlio in vacanza e la mia compagna ovviamente ho fatto quello che potevo una volta che se devo andare a mangiare sono scappato via però ti consiglio quando fai un timelapse al tramonto di continuare un pochettino un due tre secondi anche quando cala diciamo quando si accende le luci quando viene veramente buio perché se non hai visto ti rimane questo amaro in bocca detto questo dovessi essere ormai in grado di post produrre tranquillamente e anche di fare una fase di scatto un timelapse di questo tipo ricordati i priorità di diaframmi nella fase di scatto e poi una semplice post produzione come abbiamo visto in questo caso non esagerare con la post produzione non toccare texture chiarezza e altre cose che non c'entrano con la luminosità perché sennò poi avrai dei grossi cambiamenti anche di vividezza per esempio all'interno dei timelapse che sono veramente brutti da vedere ricordati sempre di essere stabile nella fase di scatto quindi un bel treppiede un buon treppiede e non toccarlo assolutamente per nessun motivo quindi adesso attendo con ansia i tuoi timelapse e soggetti che hai scelto ci vediamo nella prossima lezione